cari amiche ed amici qui ancora una volta insieme a tutte e tutti voi il vostro stante in cian in una trasmissione che non farò in diretta comunque bando le cianci che non so che cose sono passiamo al grano io in questi giorni ho fatto un video e l'ho caricato nel mio canale di youtube sante cian anzi ne ho fatti due a proposito del referendum abrogativo sul petrolio il referendum abrogativo del 17 aprile sulle trivellazioni ebbene io ho votato per il sì non so se lo avete ascoltato in questi giorni che la bp l'impresa petrolifera britannica è stata costretta a pagare miliardi di dollari in risarcimento per i danni arrecati all'ecosistema nel golfo del messico in soli cinque giorni di sversamento di crudo miliardi di tonnellate di pesce sono andati perduti forse ci occorreranno decine di anni prima di bonificare parte delle zone affettate 45 stati nord americani negli stati uniti del nord america sono stati coinvolti nell'incidente che è stato provocato da una gestione diciamo trascurata come minimo si ha voluto risparmiare sui costi della sicurezza della gestione e quindi come dire ci troviamo di fronte degli stragi ambientali più che a dei disastri di ampio impatto vogliamo forse che si ripetano in italia poi da un po di anni non si parla più del picco di estrazione la gente crede che ogni pozzo estrativo corrisponda un giacimento invece no per sfruttare un pozzo petrolifero si deve mano a mano a trivellare di più il suolo e mettere molti pozzi estrativi alla fine si arriva a un limite oltre il quale più pozzi estrativi metti meno petrolio esce perché diminuisce la pressione in pratica non riuscirai mai a togliere il cento per cento dei barili che contiene un pozzo petrolifero o un giacimento ma arrivi al 50 per cento senza problemi poi inizia a diminuire la quota estrattiva fino a arrivare a una quantità di petrolio che non potrà mai essere estratta perché non sarebbe economicamente conveniente estrarla quindi io ho dei dubbi quando dicono che un giacimento petrolifero o di gas ha una capacità o un potenziale di 300 a 500 anni in base a che lo calcolano perché magari in meno della metà di quel tempo si raggiunge il picco di estrazione per cui alla fine sarà sempre meno redditizio estrarre gas o petrolio da quel giacimento poi c'è da dire che a misura che diventa meno redditizio le compagnie petrolifere si fanno finanziare dallo stato nel quale estraggono il petrolio o dal quale estraggono il petrolio quindi alla fine sono i cittadini dello stato che pagano le perforazioni sondaggi trivellamenti e le compagnie del petrolio si incassano i guadagni pagando le tangenti e politici proprio come succede ultimamente con questo scandalo che sta scoppiando del petrolio nel sud di italia è proprio del primo aprile cioè una settimana fa che dipendenti dell'eni scambiarono le cozze che monitorano l'inquinamento del mare e quindi con altre cozze perché sarebbe venuta una tempesta che avrebbe distrutto i sacchetti che contenevano le cozze e quindi hanno alterato i dati le acque intorno ai pozzi estrattivi sarebbero realmente inquinate le cozze che dovevano testificarlo sono scomparse quindi ci vogliono far comprare delle favole ci vendono delle favole ci vendono la favola che nei pozzi estrattivi possono crescere nelle nelle torri delle cozze che poi sono perfettamente commestibili che non sono inquinate ecco se le mangiassero loro invece di cambiarle perché le hanno cambiate poi insomma questo fatto dei mitilli che sarebbero commestibili crescendo sui pozzi estrattivi è un qualche cosa che mi fa venire da ridere quindi a che punto si è arrivati nelle intercettazioni telefoniche due operai dicevano ah io non ho visto niente dobbiamo sostituire le cozze e i mitilli e l'altro gli rispondeva sì ma dove li andiamo a comprare il petrolio in sozza è un'energia fossile e quindi dovrebbe essere messa da parte il petrolio anche in sozza con la corruzione vedi ignacio lula da silva vedi dilma russov come si sono impantanati nelle tangenti del petrolio il petrolio ha una storia decennale di corruzione tangente in italia Raul Gardini lo suicidarono e insomma il petrolio riesce a inzaccherare con la sua melma i governi di tutto il mondo fatto sta che in vari enti privati e pubblici si parla sempre delle energie alternative anche in italia il governo italiano tutti i governi italiani hanno sempre proposto ricerche sulle energie alternative ma si avanza poco questo perché è più lucrativo per i politici il petrolio dato che possono prendere tante mazzette dalle compagnie petrolifere che non le energie alternative che sono a basso costo comunque non sono tanto ottimista sulle energie alternative visto che il loro sviluppo è ancora arretrato e che sarà difficile sostituire in ogni necessità gli idrocarburi infatti finché si tratta di energia domestica o di far funzionare una macchina un'automobile a 80 chilometri o di ricaricare un cellulare va bene ma quello di far volare un aereo o far funzionare un'acciaieria una fonderia una fabbrica pesante no magari in un futuro con le stampanti in tre dimensioni si potranno fare le carcasse delle macchine ma per il momento quello mi sembra assai rimoto e difficile soprattutto perché non si fanno le sufficienti inversioni nelle energie alternative e nei sistemi di produzione alternativi perché i vari governi di tutto il mondo ricevono denaro finanziazioni da enti petroliferi di ricerca di estrazione petrolifera che sono conniventi con le industrie e le fabbriche di tutto il mondo poi c'è da dire come sostituire il plastico fatto con gli idrocarburi e i medicinali fatti con gli idrocarburi lo so che voi mi potreste dire ah ma per quello ci sono adesso già gli idrocarburi vegetali bene è giusto ma io vi dico produrre cibo per trasformarlo in plastico o in carburante e uno schiaffo alla povertà perché c'è gente che muore di fame e quindi si dovrebbero trasformare cereali in idrocarburi e quindi voglio dire ci sarebbe ancora più miseria nel pianeta la soluzione energetica di trasformare gli idrocarburi e cioè i cereali in idrocarburi va a scapito della povertà si sta studiando di sfruttare soprattutto la spirulina e altre alghe nella fotosintesi quindi di fare dei pannelli solari biologici ma credo che ancora si disti molto da da poter prescindere dagli idrocarburi in tutto e per tutto comunque iniziano iniziano già a avere a esserci dei presaggi la produzione picco si sta raggiungendo in tutto il mondo se non ci slacciamo dai fossili e rimandremo senza energia e quindi senza cibo senza plastica senza medicinali ritorneremo in pieno medioevo bisogna slegarci dagli idrocarburi pian piano poco alla volta ed è per questo che questo referendum deve vincere il sì io voterò sì e spero lo facciate anche voi perché bisogna obbligare i nostri industriali politici e governanti a passare alle energie alternative investendo soldi nelle ricerche se no le energie alternative non l'avremo mai un saluto dal vostro Sant'Engian e a presto non l'avremo mai non l'avremo mai non l'avremo mai